Ciao, siamo Edekika e vogliamo raccontarvi la nascita del nostro nuovo progetto Plants Play, ovvero la realizzazione di un dispositivo che permette di ascoltare la musica generata da piante e alberi e che presto potrai preordinare tramite campagne di crowdfunding. Oggi iniziamo a presentarvi ufficialmente i membri del fantastico team Plants Play, così potete capire che lavoro enorme c'è dietro questo progetto. Il primo a farne parte è stato l'ingegner Francesco Panella, mio grand'amico del periodo diversitario con il quale ho condiviso fantastiche avventure. Cioè è piccolissimo il gancio di larghezza. Da anni viva da Amsterdam. E oltre ad essere un ingegnere informatico che si occupa di programmazione, animazione e grafica, è anche un visionario e praticante di discipline spirituali. Chi meglio di lui avrebbe potuto vestire graficamente sia l'app che il sito Plants Play? Il suo compito è creare un'esperienza piacevole ed efficace quando si usa l'app e naviga il sito. In gergo lavorativo si chiama User Experience e User Interface. Con lui ho condiviso tutte le fasi di pianificazione iniziale. Si può dire che è lo zio di Plants Play. Io mi chiamo Francesco. Dopo Francesco vi presento il dottore ingegner Luca Borgia della Eretics Technology, creatore dell'hardware e firmware di Plants Play. Il suo lavoro è un qualcosa di veramente complesso. Ha creato il circuito per rilevare le variazioni elettriche delle piante e trasformarle in note musicali. Detto così sembra semplice, ma per fare un dispositivo che faccia questo in maniera scientifica, di dimensioni piccolissime, ci sono voluti mesi di ricerca e sviluppo. Tutta questa parte elettronica va poi inserita in un contenitore su misura che abbia un design accattivante ed ecologico. E qui entra in scena il dottor Sergio Schito, che è il mio vecchio compagno delle superiori all'Istituto d'Arte. Sbarcato prima a Venezia per completare gli studi, poi a Milano e ora a Parigi, dove lavora per uno degli studi di design più importanti al mondo. Sergio ha creato per Plants Play un design talmente bello che si può indossare come fosse un gioiello, un qualcosa di veramente sublime. E non è finita qui. Il resto del team ve lo facciamo conoscere nella prossima puntata. Seguiteci mettendo un like sulla pagina Plants Play, se questo video ti è piaciuto condividilo e lascia un like. Ciao!